Comunque ragazzi siamo su Maiden, la demo di Resident Evil 8 Village E niente, ho messo un po' di impostazioni Godetevi il video, ho messo la luce, ho tolto la luce, rimangono soltanto quella dei led perché si Allora ragazzi sono le 3.14 E niente, iniziamo questa avventura Via Non sento niente fuori Maiden Fuggi dai sotterranei Esamina, guarda Cammina Non sono pratico Ecco, vedi carta Un vecchio foglio di carta Qualcuno ha lasciato un messaggio Lasciami il legato a Whatsapp alla prossima Maiden Ho intenzione di fuggire stanotte prego ero finché anche tu sopravviva bene attenzione e niente devo rimediare un attimo i romandi beh va tutto niente allora raga la prospettiva di resident evil cioè quella mi fa venire proprio anziano anziano addosso non potete immaginare beh raga guardate buca mi sa non posso usare questo eccetto qui salve e niente c'è nulla poi di carta devo usare questo eccetto perché sei il tuo amore la mia casa è un secco qui la mia casa è un secco là con mio caro che mi diventata con la roba tanto è un gatto posso tenere qualcosa qualcosa mi posso bucchini sorda tronchesi ahi poi cosa hai mostrato il sangue è il giusto prima il della non c'è sì sorda salve nooo ok prima il della le cose volano in questo gioco raga sta porta ah va bene ok c'è della luce rischio che sono romani greci che stanno appunto guardare che quanta fa ansia sta cosa vabbè ma che vino io non so se prendo questo gioco raga raga diciamo scherra oggi piove il sole c'è l'arcobaleno è qui per me arcobaleno rossa l'acqua fa un pochetto schifo l'acqua fa un pochetto che pucce ma va giro dischi non si ma la capra allora io non so un cazzo di questo gioco eh lo dico non c'è tipo una torsia qualcosa no è chiuso eeeh allora cosa è avvenuto eeeh no ops jumpscare Così Passaggio a random Ok Posso vedere questa cosa? Dove? No raga Sto gioco le scale Non sono molto Sono molto promettente Ha salvato Raga adesso succede qualcosa Ha salvato raga Niente lo specchio sempre non mi riguarda No 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 Ok Hai evitato Mi trattato a cantare Ma Ora tu potrei bene Mi sa che Mi sa che qui il quadro c'entri qualcosa Ok si Mi aveva delle orbite vuote Lascia 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 Ma il bello Li raffa E ti pareva Già Jumpscare 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 Sicuro raga Mi sa che questo oggetto qui Non avevo affrontato No Mi sa che questa porta No Mi sa che mi si è diventato qualcosa No E se dovessi riuscire Una tazza Col sangue Sì No ah mi sa che c'era c'era contro tutto tranne che sulla tavola bicchiere oh l'ho capito ah quando ci scomentiamo che io arrivo dove sta l'occhio rosso e succede qualcosa non succede nulla? ecco ecco il cortile e io esco sto guardando mi hai detto che mi sta a guardare? non ci sarò fino al mattino no 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 che cazzo sei che cazzo sei che cazzo sei ah 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 sì ah 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 ecco 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 quindi finalmente ti ha chiesto co no ha ha ho ha ha Cioè questa è la demo Questa è la demo Ok Allora Sicuramente prenderò questo gioco Perché lo dovrò È stato Oddio Che dire Promette bene questo gioco Io sicuramente lo prenderò Pace a Freddy Krueger Niente Avete visto il lato me Che gioca gli horror E come avete potuto sentire Io già Mi aspettavo un qualcosa Appena uscissi dalla stanza appunto Un saluto da Jessica Che tra una settimana se ne va Basta Io disinstallo questo gioco Guardate Adesso lo disinstallo qui davanti a voi Sì Vedete qua è Elimina Ok Bene Non c'è più Residentivo 8 È stato bello Un saluto da Jessica È bello Grazie a tutti